Questo è il secondo prodotto di Corset Wii. Ho scelto il colore mimetico, come vedete è la Fantasia Camouflage, perché mi piace tantissimo. E il fatto che avessero dei corsetti dimagranti con la Fantasia Camouflage l'ho trovata proprio un'idea entusiasmante, perché non è la solita noiosa fascia dimagrante, ma è anche fashion colorata. Ci sono anche diversi colori disponibili, ho visto il sito, ora vi posso vedere come funziona. Allora, ci sono queste fasce elastiche, che poi si, col feltro, come vedete, c'è il velcro adesivo a strappo, e così, questa qua. Questa è la fascia. È un tessuto che praticamente fa sudare, è un materiale che fa sudare, ed è anche molto confortevole. Quelle stecche sono rivestite con questa fantasia. Poi ci sono queste due fasccione elastiche sopra. Quindi, come vedete, poi si mette così, è molto facile da indossare. E poi tirate gli elastici. Quindi, più li tirate, più il punto a vita si stringe. Le stecche servono anche a tenere la schiena dritta. Io l'ho usata anche per fare i lavori di casa, e devo dire che mi ha aiutato molto a non affaticare la schiena. Quindi, oltre a fare sudare sulla pancia, quindi così ci fa eliminare un po' di adipe, quindi un po' di grasso in eccesso. E così, insomma, è comodo, e ti aiuta anche a tirare sulla schiena. Insomma, io l'ho trovato favoloso, è fatto bene. E devo dire che sono molto soddisfatta e contente di aver, appunto, ricevuto questi due bei accessori, ecco, chiamiamoli così. Ecco qua. Poi si tirano questi qua e si mettono uno sopra l'altro. Questo qua. Così. Come vedete c'è il bel conto qua. Sistemate la fascia, così sta bello stretto. Ecco qua. Spero che i due prodotti vi siano piaciuti. A me sono piaciuti tanto. La qualità è ottima, quindi ve li consiglio, assolutamente. Poi volevo dirvi che, se li volete ordinare, c'è il codice sconto, che è lttdana, avete il 7% di sconto. I link ve li metto tutti qua sotto, nell'info box. Ci sono anche i link di... Oltre del sito trovate anche i link dei due pezzi che ho ordinato, quindi della fascia, cioè il corsetto, fascia, così, e il reggisano sportivo. Quindi, penso di avervi detto tutto. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate, se pensate di acquistarli, se li volete provare. Comunque, ci sono anche, visto che l'estate è vicina, ci sono dei bellissimi costumi da bagno che io ho visto e, quindi, penso che magari prenderò pure io qualcosa. Quindi, fate voi, insomma, date un'occhiata al sito e mi fate sapere anche la vostra opinione. Bene, anche per questo video è tutto, vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!